Ufficializzata la squadra di Gianni Di Pangrazio e c'è anche un assessorato al Covid. Ad Avezzano ha presentato la nuova giunta oggi pomeriggio il vice sindaco e l'ex presidente del consiglio comunale della prima giunta di Pangrazio, Domenico Di Berardino, che ha anche la delega al sociale. A Emilio Cipollone, già vice di De Angelis, quella all'urbanistica, mentre l'ex assessore alla cultura della giunta De Angelis, Pierluigi Di Stefano, ha la delega al commercio e al turismo. La coordinatrice dei laboratori dell'ospedale di Avezzano, Patrizia Gallese, ha la delega all'università. La commercialista Loretta Ruscio e il nuovo assessore al bilancio. Ruolo tecnico, quello di Maria Teresa Colizza, ex primario di anestesia dell'ospedale di Avezzano e direttrice sanitaria dell'Asla Aquilana fino al 2018. Lei ha la delega per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid e quindi l'assessorato alla sanità. Il Consiglio Comunale si riunirà per la prima volta tra una settimana, il 28 ottobre. In quell'occasione sarà eletto il Presidente del Consiglio e la maggioranza porterà il nome di Fabrizio Ridolfi.